Vincenzo Sofo ha aperto venerdì scorso la sua campagna elettorale nella città di Agropoli, nella sede del comitato elettorale in via Carmine Rossi, presieduto da Giovanni Basile. Candidato al Parlamento europeo nelle liste della Lega, Vincenzo Sofo, uomo di origini calabresi, durante la sua presenza ad Agropoli ha presentato le sue idee per il sud. La provincia di Salerno e il Cilento sono delle terre che già, insomma, mi è capitato di frequentare sia per iniziative culturali e politiche, sia banalmente per motivazioni private e quindi il sud va visto più che per compartimenti stagni e bisogna iniziare a vederlo come sud nel suo complesso se vogliamo riagganciarlo all'Europa. Io credo che il problema di oggi del sud sia il fatto che sia stato tagliato fuori totalmente dal continente. Quando ho accettato la missione che mi ha affidato la Lega, che ha una sua complessità ma è molto affascinante, ovviamente ho basato tutto sul contatto con i rapporti, diciamo là dove ci sono dei rapporti personali, là dove ho iniziato a conoscere quelle che sono le realtà territoriali con i loro problemi, con le loro richieste di rappresentanza. Agropoli, il Cilento, la provincia di Salerno è uno di questi territori. Sofo poi si sofferma anche sulla situazione della sanità in Campania, sottolineando l'importanza delle prossime elezioni regionali che si svolgeranno il prossimo anno e quanto saranno determinanti per il funzionamento della sanità, in particolare nel meridione. Il problema che persiste da qualche decennio, secondo Sofo, è la classe dirigente. La sanità è tra l'altro uno dei principali punti di frattura oggi tra nord e sud che vanno risolti. Si pensa al turismo sanitario, io appunto vengo da Milano e abbiamo un fortissimo turismo sanitario che drena risorse tra l'altro, drena risorse al sud che vengono portate al nord per appunto fare fronte a questo travaso di pazienti, ma che anche il nord fa fatica a gestire. Qua c'è da fare una responsabilizzazione perché come sappiamo la sanità è gestita a livello regionale e infatti io credo, l'ho già dichiarato tra l'altro in una recente intervista, che l'azione della Lega a livello di elezioni europee debba essere propedeutica a quello che è il vero punto di caduta politico per la Lega sul sud, che sono le prossime regionali. Noi l'anno prossimo andremo ad affrontare le elezioni regionali in Calabria, in Campania e in Puglia e la Lega dovrà presentarsi, dovrà veramente fare il salto di qualità con una classe dirigente diciamo, è preparata ad affrontare la competizione regionale perché sarà lì che effettivamente la Lega potrà far vedere il valore aggiunto che può portare al sud, alla Campania e quindi alla provincia di Salerno e al Cilento. Da qualche decennio e oltre c'è un grosso problema e questo grosso problema è la classe politica. quindi questo grosso problema va risolto alla radice e dal mio punto di vista può essere un valore aggiunto fondamentale portare l'esperienza amministrativa della Lega che da anni governa a livello proprio locale, territoriale, regionale, regionale, regionale del nord ed è riconosciuta da tutti essere un'amministrazione vincente ma vincente in termini di efficacia delle politiche e portarla al sud per cambiare il modello di gestione della cosa pubblica probabilmente sarà una cosa buona e giusta per il sud. Vi faccio un esempio, si parla per esempio di faida tra nord e sud per le risorse. Ora se voi prendete tutte le risorse che sono state utilizzate, che sono state destinate dai governi nel corso dei decenni per le politiche del mezzogiorno, il problema non è che queste risorse siano state destinate e che siano arrivate anche dalle regioni del nord che giustamente sono più ricche in una logica di solidarietà, devono contribuire allo sviluppo di tutto il paese. Il vero problema è che queste risorse, che sono decine e decine e decine di miliardi di euro, non siano mai arrivate sui territori del sud, che non siano mai arrivate a contribuire al benessere delle popolazioni del sud. Questo non è un problema di sud in termini di popolazione, questo è un problema di classe dirigente del sud. Questa va cambiata ma va cambiata proprio nel modus operandi, nel sistema di fare politica e in questo la Lega rappresenta una grossa opportunità di cambiamento, una grossa opportunità di cambiamento che parte dalle elezioni europee e quindi da quello che la Lega potrà fare in termini di Europa, si pensi per esempio ai fondi europei che il sud non tocca minimamente e che sono fondamentali per lo sviluppo del sud, ma un contributo che dovrà dare in modo fondamentale a livello poi regionale.